L'intesa tra Campidoglio e sindacati per la stabilizzazione delle maestre precarie delle scuole di infanzia e degli asili nido di Roma Capitale. L'accordo è finalizzato alla pubblicazione di un bando per formare una graduatoria unica del personale supplente scolastico. L'obiettivo è superare il precariato, dare certezza lavorativa e continuità didattica. Parte il 30 settembre con una festa aperta a tutti il progetto sperimentale Macro Asilo. Per 15 mesi, fino al 31 dicembre 2019, il Macro di Vianizza si trasformerà in un vero e proprio organismo vivente, ospitale e relazionale. Un luogo di incontri di saperi, arti e discipline è aperto alla città e alla collaborazione di persone ed artisti. Nuova vita per Villa Farinacci, ritornata a disposizione dei cittadini. Dopo 20 anni di abbandono ed un lungo lavoro di insinergia con il quarto municipio, ha riaperto le porte al pubblico per una prima giornata culturale, previste a partire da settembre e altre attività artistiche come un festival in collaborazione con Fondazione Maxi.